E continua la nostra maratona sulle fonti tv donne e lavoro per questo 8 marzo la seconda edizione. Proseguiamo tutta la giornata dedicata al mondo delle donne a 360 gradi, toccando vari aspetti della loro vita personale e professionale. Stiamo cercando di fare una panoramica completa perché, e l'abbiamo ripetuto tante volte ma lo ripetiamo ancora, è importante capire a che punto siamo come parità di genere affinché la parità di genere non sia più solo una frase retorica che ripetiamo ogni volta in cui affrontiamo appunto tematiche legate all'universo femminile. Allora in questa parte della diretta, lo leggete già in sovrimpressione, parleremo di una struttura ospedaliera che diventa un ospedale in rosa, un ospedale per le donne. Parliamo dell'ospedale Macedonio Melloni, il primo ospedale di genere in Italia e io sono molto contenta di avere collegata con noi, Marisa Enrico, direttore medico del presidio ospedaliero Macedonio Melloni. Marisa, bentrovata, grazie per essere con noi. Grazie a te, grazie a te l'invito. Una delle protagoniste di questa maratona di Le Fonti per questo 8 marzo 2022. Allora, adesso ci arriviamo al primo ospedale di genere e spieghiamo anche che cosa si intende proprio per medicina di genere. Prima ti chiedo però, Marisa, come faccio con tutte le mie ospite, e tutti i miei ospiti, che cosa significa questa giornata che poi non deve essere isolata chiaramente, l'8 marzo? Guarda, dovrebbe significare, secondo me non dovrebbe esserci un 8 marzo, dovrebbe essere naturale avere rispetto delle donne, considerare i loro meriti, però visto che siamo ancora in progress, come si suol dire, va bene, cerchiamo di ricordare in questo 8 marzo tutte le cose che le donne fanno e per le quali dovrebbero essere apprezzate sempre e soprattutto combattiamo la violenza. Assolutamente sì. La violenza che poi è strettamente collegata proprio anche alla libertà di scelta rispetto a quella che è la vita professionale, no? Perché chiaramente se ci sentiamo vittime e succubi di altre persone non possiamo dare sfogo alle nostre potenzialità e quindi naturalmente rimaniamo sempre prevaricate e di conseguenza penalizzate, insomma è tutto assolutamente collegato, quindi ogni giorno bisognerebbe fare in modo che non si parli più di questi argomenti perché significherebbe che non esistono più, per questo che insomma poi chi mi conosce sa che io cerco sempre di affrontare tutto senza retorica perché è inutile che ne parliamo se poi il giorno successivo ci dimentichiamo e non facciamo seguire alle parole le azioni, quindi assolutamente sì, io mi auguro che non ci sarà più, ma vedo che si è allineata con me un 8 marzo perché vorrebbe dire, è già abbastanza paradossale che esista oggi nel 2022 un 8 marzo, anche se poi sappiamo perché viene ricordato storicamente, ma insomma però dovrebbe essere solo ricordato storicamente, no? Non dovrebbe essere una giornata per riflessioni sul futuro delle donne, vabbè, ma insomma però queste provocazioni servono per accelerare il dibattito. Allora, l'ospedale Macedonio Meloni di Milano, ricordiamo per chi lo conosce ma, e diciamo per chi non lo conosce, fin dalla sua nascita, parliamo del 1912, ha dimostrato di avere una vocazione materno-infantile e da adesso diventa proprio, come detto poco fa, il primo ospedale di genere. Diciamo solo che cosa si intende per medicina di genere, è una definizione data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo studio dell'influenza delle differenze biologiche, socio-economiche e culturali sullo stato di salute e di malattia di ogni persona. Allora, ospedale della donna, ospedale rosa, medicina di genere, lascio a te Marisa raccontarci questa rivoluzione, perché di questo si tratta. Guarda, è stata, è un'avventura che mi appassiona moltissimo, quindi noi l'abbiamo lanciato proprio nel 2019 in Regione Lombardia, perché Regione Lombardia oltretutto ha recepito prontamente le indicazioni del governo che quindi si rifaceva alla dichiarazione dell'OMS e quindi addirittura l'ha inserito negli obiettivi dei direttori generali e questa è un'ottima cosa. Ecco, quindi noi siamo partiti seguendo proprio anche le linee guida che il governo stesso ci dava, quindi l'ospedale di genere si occupa di tutte le patologie che interessano tutte le fasce d'età della donna, quindi dall'età puberale, dall'età fertile, dalla senescenza e poi ovviamente tutta la gravidanza parlando dell'età fertile. Noi abbiamo costruito questo nostro ospedale di genere identificando dei percorsi per le donne, che come appunto ti dicevo, per ogni fascia d'età, quindi dalle bambine alle senescenti, che sono coordinati da specialisti che lavorano in equip, quindi sono tutti gruppi multidisciplinari e noi abbiamo anche la fortuna di lavorare in un'azienda molto grande, quindi se non sono presenti qui in loco, gli specialisti si spostano dagli altri presidi che fanno parte della nostra azienda, perché la nostra azienda è costituita da quattro presidi e quindi c'è l'ospedale Fatebene Fratelli, l'ospedale Sacco, l'ospedale Buzzi e l'ospedale Macedonio Melloni, che fanno appunto la SST Fatebene Fratelli Sacco. Quindi abbiamo creato questi percorsi dove la donna prenota la sua visita, fa un'unica prenotazione al CUP cittadino, dopodiché viene presa in carico e tutte le successive visite saranno organizzate dagli specialisti e lei si troverà già tutta la sua programmazione pronta. Ecco, ecco, è il primo caso giusto in Italia di ospedale di genere? Sì, 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 perché esiste soltanto quello di Boston, il Women's Hospital e quindi ci siamo noi. Infatti volevo arrivare lì, leggevo che è stato preso esempio un po', no? Da questo ospedale di Boston. Sì, sì, sì. Ok, ok. Beh, questa è un'ottima conquista. Guarda, peraltro so che, voglio dire, è da un po' che c'è e molti lo conosceranno già, però credo che, dimmi se ho ragione, credo che non tutti sappiano che effettivamente in Italia, a Milano esiste un ospedale di genere, l'unico appunto che dà ancora maggiore assistenza alle donne. Dico bene? Cioè... Sì, 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 ti confermo che non tutti lo sanno, anche perché, ahimè, il lancio del nostro ospedale è stato poi seguito dalla pandemia e quindi ovviamente ci si è dedicati di più a questa grande problematica. Certo. Però noi abbiamo ricominciato, anche perché sono in cantiere nuovi percorsi. Io ti parlavo proprio di percorsi clinici, ma per esempio vorremmo anche inserire questo nuovo percorso di salute e lavoro, quindi le donne che rientrano a lavorare magari dopo una gravidanza o, non so, dopo una malattia. Quindi sai, l'inserimento nel mondo del lavoro, nel proprio posto, insomma, magari può creare delle problematiche e noi vorremmo affrontarle insieme a loro. Certo. Allora, io leggo queste, alcune cifre, insomma. Diciamo subito, e poi questa è la mia prossima domanda per te, per capire di più, insomma, perché poi c'è la necessità e l'esigenza? Cioè, qual è il plus di avere proprio un ospedale di genere? Allora, molte malattie comuni a uomini e donne, perché di questo si tratta, presentano però differente incidenza, gravità e risposta proprio alle terapie. Quindi questa può essere anche già una prima risposta alla domanda che poi ti giro. Secondo il libro bianco sulla salute della donna di Onda, le donne soffrono più di malattie croniche rispetto agli uomini. Parliamo di un 42,6% contro il 37%. Hanno un'aspettativa di vita più lunga, però per questo motivo, insomma, devono essere anche seguite di più, nel loro percorso di salute, chiaramente, ma meno anni in buona salute. E qui ti chiedo anche perché, cioè, insomma, la spiegazione più scientifica possibile, se è possibile saperlo, e consumano più farmaci con una prevalenza d'uso del 67,5% contro il 58,9% negli uomini. Quindi da queste percentuali si comprende già perché è così importante avere anche un ospedale che segue maggiormente le donne. Cosa potresti aggiungere rispetto a queste statistiche, Marisa? Eh, guarda, peraltro proprio durante la pandemia si è proprio evidenziata la differenza di genere, no? Perché, per esempio, l'acuzio era proprio degli uomini, quindi gli uomini venivano colpiti immediatamente, mentre le donne mantenevano la sintomatologia molto più a lungo. Per esempio posso dirti che qui, in Macedonio Melloni, ci stiamo occupando in modo particolare del diabete nelle donne. Perché? Perché le donne sono quelle meno studiate, e quindi i farmaci che ci sono attualmente in commercio, sono farmaci che vanno bene per gli uomini, non necessariamente per le donne. Quindi le donne che poi vanno incontro, diciamo soprattutto nell'età della menopausa, a rischi di cardiopatia ischemica molto più elevati rispetto all'uomo, capisci? Quindi è importante non solo creare i percorsi, ma anche fare ricerca. Quindi, perché tutta la farmacopea è proprio studiata sugli uomini, e quindi non c'è... Anche qui abbiamo una disuguaglianza, insomma, per così dire, nella ricerca. Una domanda interessante potrebbe essere questa, Marisa. Il fatto di aver dato vita al primo ospedale di genere può dare impulso alla ricerca? Sai, no? Quando parliamo purtroppo di ricerca in Italia ci rendiamo sempre conto che ci sono poche risorse, che c'è sempre carenza appunto di soldi, proprio per portare avanti delle ricerche che sono necessarie. Ecco, potrebbe essere il processo inverso? Cioè abbiamo il primo ospedale di genere, quindi questo può dare un'accelerata anche da quel punto di vista? Io spero proprio di sì. In più ti dirò, abbiamo anche la fortuna di avere l'università all'interno dei nostri presidi, e quindi dal prossimo anno accademico partirà proprio un corso di medicina di genere, proprio per formare anche i nuovi medici e cercare di definire più correttamente le differenze, dal punto di vista sintomatologico e patologico. E quindi ricerca, innovazione, formazione, no? Certo. E' un pacchetto che deve... Certo. Peraltro, visto che noi stiamo facendo un po' tutto un viaggio nel mondo femminile, proprio in occasione dell'8 marzo, analizzando a 360 gradi la posizione della donna anche all'interno della società, tra le patologie di cui soffre più la donna che l'uomo c'è anche la depressione. Sappiamo molto bene che la depressione può sorgere anche, che so io, adesso dirò una cosa banale, ma credo che sia importantissima nel contesto attuale, perché le donne si occupano più dell'assistenza di persone anziane, di familiari, quindi questo le porta anche a dover abbandonare altre attività della loro vita, che magari sono importanti e che non possono più portare avanti, e questo causa forme di depressione. E' vero che soffrono di più le donne, e questo poi va a riversarsi su tutta la vita sociale della donna, sul lavoro, sui rapporti interpersonali, no? Sì, sì, te lo confermo. Noi, peraltro, abbiamo qui proprio uno splendido centro della depressione, che è gestito da un'equipe di psichiatri e psicologhe, tutto donne, peraltro, molto accoglienti, che seguono sia, ovviamente, sai c'è anche il periodo, diciamo, della gravidanza, che dà questo fenomeno che gli psichiatri definiscono baby blues, ma che è, diciamo, quel momento di risistemazione ormonale, che è fisiologico in tutte le donne che partoriscono, che però poi dopo può diventare problematico. Ecco. Certo. E loro sono attive, figurati, da 15 anni, quindi è proprio un centro di riferimento e sicuramente le donne sono più colpite da questa, è una certezza. Certo, certo, assolutamente, in tutte le fasce d'età, penso perché poi appunto la donna è seguita in tutte le varie fasi della vita, che poi, insomma, le fasi della vita di una donna sono più complesse, no, anche da un punto di vista finanziario, per esempio, noi che ci occupiamo di finanza, cioè, se si fanno dei piani di investimento, non è che può, diciamo che sono sempre flessibili i piani di investimento, ma una donna ancora di più, proprio perché si trova a dover confrontarsi con diversi eventi che diventano ancora più importanti rispetto a un uomo, cioè l'hai citato tu più volte, ovviamente da un punto di vista medico, per esempio quello della maternità, della gravidanza, no, ovviamente una donna cambia profondamente, quindi sono, le fasi della vita sono sicuramente di più e anche più evidenti. Sarebbe, ecco, sarebbe bello arrivare un giorno in cui, in generale, l'ho ben detto anche all'inizio, perché qui adesso voglio parlare un po' di te, Marisa, perché io chiedo un po' una, come dire, anche degli aspetti personali che riguardano la vostra vita professionale e di carriera. Sarebbe bello arrivare un giorno in cui non si fa più distinzione tra uomini e donne, soprattutto quando si parla di lavoro, in cui veramente prevalga il merito, no, e non scegliere in base a, no, ma lui è un uomo, quindi è meno occupato di una donna, è meno problematico, eccetera, eccetera. Ti posso dire a che punto siamo, diciamo, facendo un confronto tra presenza maschile e femminile, nel tuo settore di riferimento, c'è il settore medico? Ma vorrei dire, forse un pochino meglio, un pochino però, ecco. Quel pochino non mi piace tanto, ma... Non ti piace il pochino, posso dirti che intanto, allora partiamo dalle branche specialistiche, allora diciamo che intanto ci sono più donne nelle branche chirurgiche, che, ti ripeto, ai miei tempi non poteva esistere. Io ho cominciato come neurochirurgo e eravamo solo quattro donne in questo organico di 26 persone e quindi ci guardavano sempre, come dire, con tenerezza, diciamo così, e ci prendevano molto in giro definendoci unità di svago, capisci? Ecco. Da quel punto di vista sicuramente, poi le donne sono molto brave dal punto di vista chirurgico, soprattutto quella chirurgia raffinata, la chirurgia delle piccole parti, quindi per esempio dal punto di vista neurochirurgico ti direi la chirurgia del periferico, che sono proprio veramente bravissime. Quindi in molti settori abbiamo una maggior presenza di donne che sono molto brave già all'università e quindi entrano facilmente anche nelle scuole di specialità, quindi da quel punto di vista sicuramente. Direttori generali in sanità non ce ne sono moltissimi, devo dire. Ecco, infatti noi ci occupiamo sempre, dall'anno scorso, dopo la prima edizione della maratona dell'8 marzo, noi ogni mese, l'otto di ogni mese, come le fonti, andiamo a vedere cosa cambia i vertici di società che fanno riferimento appunto a diversi settori. Effettivamente sì, qualcosa si muove, come hai detto tu prima, un pochino, ma posizioni apicali, cioè ai vertici, insomma, sono veramente poche, quelle ricoperte appunto da donne rispetto agli uomini. Confermi che è così anche nel... Il famoso tetto di cristallo, tu arrivi fino a un certo punto, poi diventa più difficile, insomma, per una serie di motivi infiniti. Sì, sì, sì. E poi, guarda, lo dico con un sorriso, ma è un sorriso un po' amaro. Di solito quando, e qui poi ci riconduce questo ragionamento a una mentalità ancora diffusa, per cui anche noi, mi metto in mezzo anch'io, ma perché parliamo della collettività naturalmente, tendiamo magari così a pelle, a fidarci di più, cioè arriviamo in un ospedale, vediamo un uomo, una donna con un camice, la cosa che volevo dire con un sorriso è questa, che la donna, pensiamo, sia un'infermiera, invece il dottore, diamo per scontato che sia un medico. Sì, sempre, sempre, ma devo dirti che, forse un pochino meno, ma insomma è stato così per moltissimo tempo. E poi c'è questa un po' mentalità ancora diffusa, sicuramente meno rispetto a una volta, per cui magari l'uomo tende a dare più autorevolezza, cosa che non è così, cioè non è realmente vero, però vediamo un uomo e tendiamo a fidarci di più. Perché? Perché? Sì, io credo che sia una questione di come sono stati allevati i piccoli, e quindi sono stati allevati, cioè il cambiamento avviene solo, secondo me, se si allevano i propri figli in modo diverso, quindi, abituandoli al fatto che siamo tutti uguali, chi più bravo, chi meno bravo, però credo che faccia parte dell'immaginario collettivo, no? Il professore universitario, il primario, no? Ok, ok, ok. E poi, altro aspetto, effettivamente, che forse non consideriamo, che le donne sono più, cioè rivestono, non so, ci sono tante pediatri, mi viene da pensare, no? Quindi sono collegate ai bambini, quindi sempre alla maternità, cioè la donna che è vista anche in questo caso come adatta ad aiutare altre donne che vogliono avere figli, insomma tutto legato all'aspetto della chioccia, no? Della donna. Esatto, sì, 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 assolutamente. Quindi se le donne dovrebbero fare le pediatri di base, ecco. Ok. Oppure ecco delle specialità che non comportino, ripeto, la chirurgia per dire, quindi sempre specialità così che possano proteggere in qualche modo. Certo, assolutamente sì. Allora, detto questo, cosa ti auguri per il futuro e cosa si sta facendo anche da questo punto di vista? Poi diamo riferimenti per l'ospedale Macedonio Melloni, anche per chi volesse, insomma, avere maggiori informazioni, maggiori dettagli. Ma senti io, intanto, noi siamo un gruppo che non molla mai, quindi siamo sempre sul pezzo e continuiamo ad andare avanti, anche se incontriamo difficoltà, quindi noi non molleremo mai. Quindi mi auguro che questa maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica porti a capire che il nostro non è un ospedale femminista, che è importante occuparsi delle differenze di genere, proprio perché sia le donne sia gli uomini possono venire curati meglio. Quando forse passerà questo concetto, forse raggiungeremo la meta. Eh, perché poi anche lì vedi un altro pregiudizio, il fatto che quando si portano avanti dell'iniziativa al femminile si definiscono femministe, invece no. No, infatti. E soprattutto, però, però, esatto, io mi auguro che arriveremo un giorno in cui non ci sarà bisogno di distinguere iniziative femminili, iniziative maschili, rosa, azzurro. Ecco, non ci sarà più bisogno di queste famose quote rosa, che francamente... Ah, no, 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 io sono... Non ci sarà bisogno. Io sono contraria, nel senso che è perché le vedo come un... l'unico modo per, no, e quindi è abbastanza umiliante per quello, perché non dovrebbe essere... Oppure quando si fanno tutte le varie leggi per introdurre, che so, cosa che è stata fatta recentemente, la parità salariale, ma non c'è bisogno di una legge che sta lì... Cioè, dovrebbe essere scontato, no? Esatto, che stabilisca che uomini e donne a parità di mansioni e di competenze debbano prendere lo stesso stipendio. Invece, purtroppo, dobbiamo ancora ricorrere a questo. Speriamo che sia un modo per, invece, far cambiare anche mentalità. Allora, come fare a mettersi in contatto con voi per avere maggiori dettagli? E poi ti saluto, Marisa. Allora, Emanuele, se uno desidera prenotare delle visite, naturalmente può riferirsi al numero del CUP di Regione Lombardia, quindi 800 638 638. Altrimenti può comporre questo numero, che è la nostra direzione medica, dove forniamo tutte le informazioni possibili, che è lo 0263633228. Perfetto, perfetto. Allora, poi la parolina magica è prevenzione, ovviamente che riguarda le donne, ma non solo. E approfittiamo di questo evento televisivo per l'8 marzo, per, insomma, fare anche sensibilizzazione da questo punto di vista, per la prevenzione. Grazie, Marisa Enrico, direttore medico del Presidio ospedaliero Macedonio Melloni, per aver partecipato alla nostra maratona. Sei tra le protagoniste di questa edizione e avremo modo sicuramente di sentirci ancora. Grazie mille. Grazie a te, Manuela, dell'opportunità. Grazie. E allora, noi naturalmente proseguiamo con la nostra maratona. Grazie a tutti.